Da oggi, primo settembre, per i prossimi mesi i cittadini della Campania non saranno più costretti a pagarsi di tasca propria prestazioni specialistiche, anche onerose. Grazie a una mozione, a mia firma approvata all'unanimità delle scorse settimane, sarà possibile dare continuità assistenziale a prestazioni essenziali che oggi sono negate, lo fa sapere Valeria Ciarambino, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. È impensabile che i tetti di spesa per alcune prestazioni si esauriscano già a febbraio, negando il sacrosanto diritto alla salute. Per questa ragione continuerò a lavorare anche per i prossimi anni per scongiurare il blocco dell'assistenza, grave e inaccettabile sempre, ma soprattutto in fase emergenziale, come quella che stiamo vivendo.